Sono del gruppo sportivo dei Carabinieri che ringrazio perché comunque mi hanno sempre sostenuto e continuano a sostenermi in questo percorso. Lei è Martina Sinigalia, Carabinieri, 26 anni appena e già sul podio azzurro di competizioni internazionali grazie allo sport e all'arma, la sua specialità, il fioretto. Io ho iniziato nell'Under 20 dove sono riuscita a collezionare tre bronzi agli europei e tre ori a squadre, sempre agli europei. Successivamente sono riuscita a portare a casa un bronzo ai mondiali e un oro ai mondiali a squadre. Vivi a Padova dove fa preparazione con Diego, il suo allenatore originario di Mogliano, Carabinieri di Stacco da Roma. Ma l'abbiamo incontrata maestra al Circo la Scherma di Rosa dove si allena quasi tutti i giorni in vista della partenza per il Lazio per i campionati italiani assoluti alle porte. Il 26 di maggio a Cassino e successivamente il 4 di giugno invece avrò i campionati italiani a squadre a Napoli. La ripresa delle competizioni dopo lo stop forzato dalla pandemia. Ormai è un anno e mezzo che non facciamo gare quindi è una competizione che è molto importante perché a parte Doha che abbiamo appena, siamo appena tornati da Doha, è una delle poche gare di quest'anno. In tempi non sospetti era stata proprio a Wuhan per il mondiale militare di ottobre 2019 poco prima che dilagasse il virus. Siamo riuscite ad ottenere il secondo posto a squadre. Che clima hai trovato lì? Il clima era tutto tranquillo anche perché comunque noi stavamo sempre dentro il villaggio e non ci saremo mai aspettate quello che poi è successo. Martina è in pedana da quando aveva sei anni grazie al papà sciabolatore. La passione per i carabinieri l'è ereditata però dal nonno maresciallo dell'arma. Ora Cassina invaligia la voglia di tornare a vincere per continuare a portare avanti i valori patrimonio di ogni carabiniere e dello sport. Tutto sacrificio, disciplina, lealtà, correttezza. Forza Carabinieri!